Siamo a Cleto in provincia di Cosenza per un'altra bellissima presentazione di un libro sempre preedito da Pellegrini, questa volta in compagnia di Attilio Sabato per Potere e Poteri, il backstage della politica calabrese al quale chiediamo appunto qual è la situazione della politica calabrese, il potere in questo caso e cosa consiste e soprattutto delle chicche proprio tratte dal libro che oggi vedremo presentato proprio qui a Cleto. Allora intanto buonasera, grazie per avermi invitato a fare queste interviste, solitamente faccio le interviste adesso qualcuno la fa a me. Il libro è un viaggio negli ultimi trent'anni di vita politica e non solo della nostra regione. È un racconto che muove parallelamente anche sul piano della comunicazione, dell'informazione politica come si è evoluta. Io racconto dei vecchi trequarti, dei vecchi videoregistratori, delle vecchie telecamere quando andavamo a ascoltare i vari misasi, i vari mancini fino all'ultima fase, cioè quando basta una piccola telecamera per raccontare per esempio la vittoria elettorale di Oliverio. In tutto questo arco temporale c'è l'antropologia della politica, la nostra storia, ci sono le occasioni mancate, ci sono le diatribe, i litigi, la politica fatta a tavolino e che purtroppo ci hanno consegnato la regione che oggi abbiamo sotto gli occhi, che non è cresciuta, non c'è stato lo sviluppo auspicato, è rimasta prigioniera delle vecchie logiche, delle vecchie consorterie. Cosa possiamo fare noi come cittadini ma soprattutto cosa può fare la politica per rinnovarsi e soprattutto per essere al passo con i tempi quando il cittadino è più che altro scontento e molte volte si fa anche fuorviare, probabilmente se ne parla molto, delle fake news e quindi non conosce bene la politica, non la conosce attentamente. Allora, intanto è una domanda che richiede più risposte, perché la politica si rinnova se la partecipazione è libera, ma se, come avviene in questa fase, siamo alla presenza di una legge elettorale che consegna nelle mani di pochi il potere di poter decidere chi mettere in lista, beh, mi pare che siamo alla politica dei nominati. Seconda battuta, ti dico che il sistema partitico, così come l'abbiamo conosciuto, non c'è più, non esiste più, sta andando via via perdendo appeal nei cittadini e che questa è una fase di grande transizione. Io non sono tra coloro i quali dicono che abbiamo vissuto la seconda repubblica, secondo me non è mai nata, siamo rimasti ancorati alla prima repubblica con gli emuli dei leader, solo che mentre i leader avevano spessore intellettuale, politico, coloro i quali ne hanno cercato di ripercorrere il percorso, scusami la ripetizione di parole, non hanno mostrato di avere questa capacità. Le fake news o le post verità sono, come dire, le controindicazioni dell'informazione che viaggia attraverso i social, le piattaforme social. Una domanda diciamo che ci interessa da vicino, qual è il modo giusto di fare informazione a livello proprio di libertà di informazione, soprattutto quando si parla di piccole realtà come quella che può essere Cleto, ma può essere anche, non so, Cosenza, che invece è una realtà molto più grossa? Dipende sempre da chi si assume l'impegno di raccontare una realtà, che deve farlo con onestà intellettuale, quindi svincolato dalle appartenenze, dalle simpatie, dal feeling che può avere con questo amministratore anziché quell'altro. e poi raccontare i fatti, attenersi ai fatti e distinguere bene i fatti dalle opinioni. Deve dire al cittadino fin qui, ciò che è accaduto, adesso ti dico come la penso io. Ripeto, qui a Cleto per la presentazione del suo libro Potere e poteri, backstage della politica calabrese, edito da Pellegrini, Riccardo Cristiano, Liberi TV, Cleto. Grazie a tutti.